Da oggi in Puglia è possibile far visita ai propri parenti ricoverati in ospedale in condizioni critiche. Anche la Puglia dunque si unisce ad altre regioni italiane nell'ottica di una umanizzazione delle cure. In questa direzione è l'emendamento approvato a maggioranza dal Consiglio regionale con cui è concessa la possibilità al direttore dell'unità operativa di autorizzare le visite dei congiunti oppure di promuoverle. Come evidenzia Alessandro Leoci, consigliere regionale del gruppo Con Emiliano. La proposta di legge è stata discussa ampiamente in Consiglio da tutte le forze politiche e alla fine tra governo e consiglieri si è trovato il giusto equilibrio affinché questa proposta possa vedere la luce. E così è stato. Ci sono state diverse proposte, tra cui quella del gruppo consigliare che ha portato un emendamento che permette l'autorizzazione al direttore dell'unità operativa per l'accesso appunto dei parenti, dei pazienti in condizioni critiche.